Salut le gars! Eccoci qui per il settimo episodio, ragazzi sempre più vicini alla fine a me sale già il magone. Comunque, prima di questo pezzo finale d'episodio abbiamo visto Lola che cerca di dichiararsi in qualche modo a Maya, Maya che le sbatte proprio la porta in faccia violentemente, muro, e ci sono rimasta male io, immagino che per Lola sia stato proprio uno shock. Ho paura di vedere cosa succederà dopo, però sono curiosa quindi andiamo subito a vedere la fine dell'episodio. Come sempre però, prima intro! Speriamo bene, raga! Ma dove sta? È stato di shock e mezzo confusionario, non capisco. Che fatta! Ah ma stanno girando! Il ragazzo mi fa morire perché guarda più Elliot che quello che stas facendo. Super innamorata, super crush. Bellissima. Bellissima. Allora, tutto quello che dici. Allora, secu, cioè ma il film è di Elliot, lui il regista, lui il creatore e tu metti bocca, cioè, anche se avessi tutta l'esperienza di questo mondo, ma lo lasci fare il povero Cristiano, cioè. Ma che figata che stanno creando, è troppo bello. Poi Lola, super bravo, super professional, vabbè. E Max che sperava che finisse questo supplizio, ha detto, ah vabbè, ma era veloce, cioè, ha già finito. E invece c'è Joe che vorrebbe prolungare queste riprese per tutta una vita, solo per stare con Elliot. Oh, segu, basta, hai ruzzo, bravo, Elliot imponiti. Bravo Joe. Oh mio Dio, la pioggia, la pioggia in scam vuol dire feels, quindi ora ho paura. Bonna raga, chiudo. E riesce a fare la scena, però. C'è che dà le botte. Eccolo là che è al minimo ostacolo alla mia e mia difficoltà, subito comincia a criticarsi. Eh no, non sono brava a rovinire al tuo film, andrà tutto male. Invece è Elliot che cerca di rassicurarla. Ma no, ma tranquilla. Appunto. Piango. Ecco, no, aspetta, scusate. Coincidenza, io non credo. Allora dice, je t'aime. Maia, eccola, che si palesa, che appare. E sto sguardo di Elliot. Ha un'idea, già lo so che ha un'idea. Ha già capito tutto, no, ecco. Si ti cambia il caso. Combo, direttamente, ok? Max, ti domande di reculere da un mè. Ok. Tu va rallonger un po' la tua focale. Jo, sei perfetta. Non ne puro, ne change rien. E Maia, tu avrai bisogno di te. Ok. Secondo me Max Hans si è davvero divertita a girare queste scene perché si è proprio messo nei panni del regista. e siccome lui ha detto sempre di essere interessato a questo mondo, magari gli è piaciuto veramente. E' un'idea che cerca di capire, ma questo cosa ha in mente? Ho capito. Se sei, 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 sei. E' pronto? Dai, allora ce la puoi fare. Confidiamo. Io confido negli occhi. Vediamo. Ah, ho capito cosa deve fare. non non perché 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 non se non ci serve perché perché sono più ma non non è Mi sento male Lo sguardo di Maya Non ce la faccio E' l'ora che la guarda Oddio L'ha detto L'ha detto Bimba Ok, colpo di scena Questa non me l'aspettavo Questa è solo una scena di dichiarazione Il bacio era proprio The fuck E lì 8 ce l'ho rimasto Super contento Sì Li amo Li amo tutti La gelosia Le da di Gio Povero Liotto L'ha proprio rubato Sguardino tattico C'è una notturna Riflessiva Ecco Allora Se mi fanno penare Vero Ma non mi raccomanda Terila Il talent No De base Eliott deve giocare Il mio ruolo E giudicare Lucien Ma con il bacio Non poteva Non mi raccomanda Ma no raga Glieluo a girare queste scene Sono contenta Perlo là Però Glieluo a girare queste scene Mi sarebbe venuto il piantino Proprio Come va L'ha Non è più Unico Rensember Unico È Unico perché non avevo voglia e che cerchi a luttare contro un'addicazione tu hai addicazione? solo io e dai su su mi prego finalmente mamma mia la soddisfazione quanto sono belle adesso capisco il titolo del film di Elliot è bella puntata geniale 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 non ho niente da dire no vabbè io amo amo anche il fatto di Elliot che abbia avuto la giusta pensata di dire ok adesso giriamo la scena però Lola guarda Maya come se stesse praticamente dicendo a lei quelle parole genio vabbè personaggio che io passavo con tutto il cuore voi ormai penso che l'abbiate capito perfettamente finalmente una gioia queste due sì 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 sono contenta finalmente ci hanno dato questo bacio queste dichiarazioni che sollievo veramente ora tanto so che succederà il drama perché appena succede qualcosa di felice subito dopo c'è la catastrofe quindi vediamo un po' cosa sarà io vi aspetto nel prossimo video come sempre grazie di supportarmi iscrivetevi al canale lasciate un bel mi piace e ci rivediamo qui bisù